Chi è che va? Allora, allora, dipende da lui. Allora dipende da lui. Non è che poi stiamo andando a tutti. Eccole qua, un passaggio del primo giro. Un 14 di chilometri a punti. C'è chi va alla ricerca della conquista del primo punto possibile su una gara così curta. Ora gestire così la prova. Un attore. Poneco alla 41. Chloe Camuto. Vediamo se sono loro due. A prendere il punto. ci trovano sono loro due trecento città il 41 ora Fana e la Cicchinè ora che va in prima posizione continuo! 58 184 sei da parlare questa batteria il gruppo è più compatto sono rimaste lì tutte le atlete ora ci prova l'atleta di Cassano D'Adda Skating Club Cassano D'Adda con l'appuntatore in seconda posizione l'ha già conquistato i pari punti 108 356 e ora dall'esterno la cliente della Pavonese vai Valeria Asi Abailo e è anche l'atleta che ha conquistato i suoi titoli regionali di categoria nella regione Lombardia e da dietro 243 356 8 atlete sono già andate a punti di nuovo l'atleta della vittoria patinaggio Torino e ora è un'altra parte di nuovo l'atleta della vittoria Carlotta Ballone ma è un 41 41 329 sono sempre l'atleta della vittoria sono sempre 8 atleti a punti ultimo giro ultimo giro vai Valeria vai Valeria vai via 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 completato la prova pittatore no e il 684 con 3 punti la Nappi 3 punti va partite l'atlete Arianna Lazzarini Red Black Crevone sede della Trofeo Bruno Piezzi nel 2022 Lazzarini ora va in prima posizione Cassano Datta numero 107 Codibue Lazzarini Piccinin le prime tre in quarta posizione vado a Ligure e Rosa suona la campana suona la campana passaggio con i primi punti in palio Codibue Lazzarini 107 79 sono andati via potenti hanno un po' staccato il gruppo si ricompatta in parte suona di nuovo la campana la via l'atleta di Paderno con facilità l'atleta della Padernese Cora Gualtieri Mentre a questo a lungo si staccano sei atleti 242 242 79 i punti dell'ultimo passaggio Ancora Ancora skating club Cassano Danna Red Black abbiamo sempre abbiamo sempre Codibue Eleonora con Lazzarini altro passo per le prime delle tre 107 79 gruppo completamente frazionato e ora 326 Sara Parigi Menzana Siena ma ancora Lazzarini non si accontenta dei punti già presi ancora Lazzarini 79 326 e sono qui forse da vedere sono 6 7 8 9 la decima è un pochettino più staccata sono 8 atleti che accederanno alla finale meno 5 aumentano aumentano gli è rimasto un po' più coperto 6 alle 2 l'atleta di Pescara e l'atleta di Siena punti 5 atleti nel primo gruppo 2 atleti che provano a riagganciarsi 5 atleti sono andate a punti quindi attenzione al traguardo finale che può essere il traguardo finale quello che dà la qualificazione al successivo passaggio di nuovo scheduling a Cassano 107 79 mani sulle gambe gara ormai l'ultimo giro ultimo giro sono rimaste in 7 nel primo gruppetto la 361 ora è l'ottava post anzi no la 176 vediamo Lazzarini 79 3 26 6 anzi sono arrattite le 3 e la quarta batteria quadri di finale 2000 appunti 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 5 6 6 è una gara ancora poco gestita ma fortunatamente è solo 30 metri traguardi a tutto al primo giro quando ancora ci sono energie vediamo 2 7 7 277 43 facciamo subito due punti e mettiamoci al coperto 3 4 4 4 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 12 11 12 14 15 15 12 15 16 Giustamente rimane Schia, 19, 277, il gruppo si frattuva, si prova ad agganciarsi. Coperta di stima, coperta di stima. La celebra della campionatoria di San Benedetti, Valentina Granno, va dall'esterno, ancora scotto. L'impiade Siracusa, 2,77, 113. 5 atleti hanno conquistato punti. Prova, suona la campana, ancora Granno, ancora Savone in line, con il 936. Fornituro Fabriano, Olivini Strega, 145, 19. Ancora la Siracusana ad accumulare punti. 2,77, 2,95. Giulia Marelli, a prendere il suo primo punto. Ultimo giro. Sema! Brava, 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 brava. Vigliana, 9,36. Fortituro Fabriano, Olivini a Sprega. In seconda posizione, Alte Ceccano con il 137. Alessia Maggio. Brava, 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 bella gestione per questa atleta, 19, 137. E il primo posto per la 936, quindi tre punti per...